Numero 06, 06, 06, maglietta 06, 06 non c'è 06, 06 è 1, 06 è 2, 06 è scattolato, via, via, Altro numero, numero 9, numero 58, 58, eccolo qua. Numero 15, 15, è il che? Puoi anche sbagliarlo e metterlo subito, non c'è problema, puoi sbagliarlo e metterlo subito. Numero, è caduto il numero, numero 30, stavo io stavolta, aspetta, aspetta, era Maurizio. Maurizio, 30, non è l'io, eh? Perché dopo lo piglio un'altra volta? Numero 06, 65, 65, Brioche più parrucchiera, non la parrucchiera, Brioche, va bene, ci vediamo, ci vediamo, 65 giusto? Eh, ce la dà, ce la dà, ce la dà, bravo. Numero, bianco come 69, chi è che è lì? 69, 69, 1, ce l'hai la Morosa? La moglie, la moglie, è per l'amante, vabbè, comunque va bene. Numero 72, le cuffie, perché io lo so dire in italiano. Ci sei? Ok, ok. I think casino, eh? Grazie.